Parte ricerca del mio tesi del laurea che ho fatto preparato con vari professori dell'Università di UOV di Venezia su ecoturismo, architettura sostenibile, praticamente un edificio progettato tutto questo tesi circa solo ricerca 390 pagine più 30 40 tavole di disegni del mio progetto nuovo che ho fatto nella zona e soprattutto con un clip filmato molto interessante che avevo preparato come animazione di progetto come andarle. E' questo qua del 1992